Parrocchiale, l'attacco, il muro, il muro di Conegliano, Conegliano è campione d'Italia per la quinta volta nella sua storia, Conegliano vince lo Scudetto 2022. Brave, brave, brave ragazze, brave anche Monza, Conegliano quest'anno ha sudato il sette camicie per vincere questo Scudetto. La gioia per le Pantere del Prosecco Docchi Moco Volley, è il quinto Scudetto per la società di Garbellotto e di Maschio.